20 minuti, perdonatemi, ma abbiamo come sempre corso perché questa settimana veramente, stamattina non ho preso la macchina, l'ho lasciata a Ruben perché aveva veramente tantissimi impegni per voi perché abbiamo lavorato tantissimi. Capotto elegantissimo, bianco, potete averlo anche in nero, modello Armani, bellissime, a 19 euro, regalate, dovete essere veloci amiche, non ci vuole altro. Velocità nel fare le conferme, 39, guardate, bellissimo, ieri anche questo è andato molto molto bene, parliamo di elasticizzata anche la manica, veste fino a 140 di sene di vita, di prima necessità, quindi è una borsa, è un vestito, è un gioiello, è una cosa che è in più, quindi si compra se si ha la possibilità e se ci fa piacere farlo. Un amore, brave ragazze, belli, belli, belli. 45 euro per l'amica di Instagram che vado a 99, è pazzesco, eco pelliccia, tutto foderato a 99 euro, brave ragazze perché vi vedo veramente attentissime in questo lunedì. 45 euro per la mia amica che ha chiamato, Miss Lux, eh sì Miss Lux, EBC Collection, regalata quindi il mio marchio, modello Chanel in Martellassé, in capretto, con tracoli in pelle che si sgancia e tracola a catena. Questa è disponibile in viola, in nero, parliamo di cerniere interne, parliamo di tracola regolabile, parliamo di 99 euro, non è bella, di più, di più, 99 euro per voi, modello zanellato, patina in cavallino, regalata questa cifra, regalata. Prendere al volo, utilizzate il mio codice sconto Emanuela, andate su Fitvia oppure andate sulle mie storie quando ci sono, fate sui pap, cercate i prodotti per il vostro fabbisogno, ce ne sono veramente di ogni. Che è la cosa più importante, 75 euro, capotto foderato, parliamo di tessuto compatto, bianco crema, a solamente amiche 75 euro. Avviamo! Sono le telefonate della sera che lo mandano in tinta. Allora, vabbè, se rimarrà, ce la posso avere zebrata, ma non ce l'ho qua, perché è andata, ci può essere zebrata, beige nero, bianca e nera, ma in questo momento sono tutte partite, sono i miei calzini, fare a meno e mi danno anche la carica durante le dirette, quando magari vado un pochino giù di tono, gli snack sono ottimi, ricordate che quando fate l'acquisto con il 20% avete anche un regalo tra diversi regali a vostra scelta, quindi mi raccomando, guardate la qualità del tessuto, tutto interamente foderato, a solamente 75 euro. Si può avere in crema, in bianco cremo, in nero, a 135, oppure c'è questa che è un modello Gucci, sempre a 135 che fa anche da borsa da viaggio, con la tracola e i manici, a 99 in promozione, è unico ora qua, dimmi Ale. Sì, certo, bellissimo, molto di classe, molto chicosa, 59 euro regalata, regalata, bellissima. Il fularino a 39, allora, fulare specchietto a 39, guardate che meraviglia, una, sta suonando tutto, è ovvio amiche, guardate che cos'è, guardate che cos'è. 75 euro, cappotto, foderato, eccezionale possibilità, a 75 euro, prezzi incredibili. Allora amiche, io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, per l'affetto, per tutto quello che ci donate ogni giorno, adesso mando lo spottino, preparo tante altre cose per voi, voi rimanete con noi.